La bellissima cantante salentina Emma Marroni si è commossa durante il programma d'intervista di Maurizio Costanzo, la cantante attraverso i 10 video infatti ci sarebbe confessata e aperta a 360 gradi. E poi la bella cantante avrebbe parlato anche di maternità e avrebbe detto, provo un grande desiderio, sento che istintivamente sarei portata ad essere una mamma. E parlando poi dell'amore sarebbe giunta una rivelazione chiuso per ferie, confermando la voce che sarebbe single. E poi è arrivata la nota dolente, o meglio le lacrime che copiose sono scese e hanno solcato il suo volto, infatti ha parlato di cancro. Mi ha fatto tanto, tanto male. Ringrazio per l'ascolto, questo sarebbe quanto. Questo video non vuole assolutamente ledere la privacy di Emma Marroni e o della famiglia Marroni. Questo video vuole solo informare eventuali persone nel rispetto della privacy di Emma e della sua famiglia. Saluto e a presto. Grazie a tutti.